Le immagini che vi stiamo mostrando si riferiscono all'area scandagliata nel corso di alcune attività di addestramento e di ricerca e sono quelle delle acque antistanti la torre di Cerrano tra Pineto e Silvi nel cuore dell'Amp dove sono presenti resti di strutture portuali presumibilmente di epoca romana pertinenti al porto dell'antica Atria risalenti alla fine del terzo secolo a.C. Fra le numerose iniziative che hanno accompagnato la quattordicesima edizione della settimana della cultura ad Atri anche un convegno sull'antico porto del Cerrano alla presenza di studenti e relatori illustri, studenti che durante le ricerche hanno avuto la possibilità di migliorare le proprie competenze subacquee mediante lezioni teoriche e pratiche tenute da docenti universitari ed esperti tecnici sui sistemi di rilevazione e metodologie della ricerca archeologica subacquea, geologia e biologia. Al microfono il dottor Glauco Angeletti, membro della soprintendenza per i beni archeologici d'Abruzzo e delegato all'archeologia subacquea. Noi consideriamo questo appuntamento di Atri come l'inizio di alcuni lavori che faremo nei prossimi mesi tra cui come speriamo molto presto l'apertura del piano terra del museo archeologico. E' chiaro che nell'ambito di questa attività ha un punto di particolare attenzione i lavori fatti dalla soprintendenza negli anni 80 e 90 per quanto riguarda il rinvenimento del porto romano di Atri e in tutto questo l'archeologia subacquea che in Abruzzo ha particolare attenzione da parte del mio ministero si colloca sia sotto il profilo scientifico sia sotto il profilo di tutela da cui la mia relazione in un momento molto particolare di approfondimento da una parte e di valorizzazione dall'altra parte. La ricerca archeologica subacquea nell'ambito del Parco Marino viene inserito poi in un programma di formazione universitaria denominato Campi Scuola di Archeologia Subacquea coordinato dalla soprintendenza per i beni archeologici d'Abruzzo ottenuto da archeologi della Cattedra di Urbanistica Antica dell'Università La Sapienza di Roma, del Dipartimento di Geologia dell'Università di Chieti e nell'ultimo anno anche con il Dipartimento di Studi Classici della Università d'Annunzio di Chieti e Pescara. Saranno una serie di iniziative molto importanti che però hanno uno scopo principale, quello di sensibilizzare sempre di più i cittadini verso una cultura più approfondita. Ma sì, diciamo che essenzialmente noi vorremmo che chi va a Cerrano e quindi all'antico Porto Romano, oltre le bellezze naturali, oltre il mare, possa avere contezza, possa avere la coscienza che sotto ci sono delle strutture ormai difficilmente visibili proprio per le correnti e l'insabbiamento ma che comunque rappresentano un punto fermo nella storia di questo territorio. Sono stati condotti tra l'altro studi molto approfonditi che hanno portato alla luce avere i propri tesori? Ma diciamo dal punto di vista scientifico certamente si tratta di oggetti importanti, di materiali importanti. Non parlerò di tesori proprio perché sennò poi qualche persona meno avveduta pensa al tesoro del pirata o di altro tipo. Certamente si tratta di aver sotto il profilo storico e anche sotto il profilo topografico aver messo un punto fermo su quello che era il porto di Atri che più volte era stato identificato in vari luoghi. Tali attività possono davvero rappresentare un ulteriore incentivo alla valorizzazione e promozione e soprattutto destagionalizzazione del turismo unito anche ad un accrescimento culturale e di conoscenza del territorio a cui è particolarmente evocata la gestione dell'area marina protetta Torre del Cerrano. La dottoressa Silvana Claudiani responsabile per l'Agenzia Promozione Culturale di Teramo. Effettivamente l'abbiamo voluto questo convegno nell'ambito della quattordicesima settimana dedicata alla cultura e promossa dall'Agenzia per la Promozione Culturale di Teramo e di cui sono la responsabile con le sedi distaccate di Atri Giuliano Vennereto. Quindi il convegno di questa sera è in programma insieme ad una serie di iniziative culturali, visite guidate, appuntamenti con le scuole proprio finalizzate alla riscoperta dei valori e del nostro patrimonio artistico che è veramente da salvaguardare e quindi anche ci prefiggiamo l'obiettivo di invitare i giovani a così prendere atto dei tesori che sono sul nostro territorio in particolare della nostra regione e riscoprire anche la storia del nostro passato e quindi ben si colloca questo appuntamento pomeridiano sul porto di Cerrano, sull'antico porto della nostra Atria Civitas Vetusta.